marinate le costine semplicemente con aglio rosmarino salvia e del vino bianco fate marinare per almeno un paio d'ore poi una bella piastra rovente fiamma media sotto e cuocete le costine per 25 minuti girandole continuamente devono arruscare bene poi impiattate a piacere guardate che però una cosa è fondamentale sopra mettete dei granellini di sale grosso e tutta nata cosa voglio